salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo in un altro bello spacchettamento su brawl stars lo so faccio tantissimi video su blu stars ma è perché mi piace questa serie e vedo che mi piace anche un po a voi quindi ora vediamo apriamo sempre le mega casse che sono due mega casse 80 gem potrete una leggendaria ci spero qui con me ad aprile ci sono dio del poker ciao e righetto 0 7 saluta lo vedete per la prima volta la sua voce e ora andiamo subito a scioppare ragazzi allora per questo video visto che ho appena visto quanto siete riuscite a mettere mi piace facciamo 10 mi piace ragazzi per questo video quindi iniziamo 5 skip quindi niente leggendari in questa c'è niente brawler in generale c'è niente brawler in generale 3 gemme e 5 biglietti prossimo prossimo lo clicco io 5 niente neanche qua vabbè raga abbiamo di nuovo sprecato non vedete questo video 8 gemme non dici di aprire un altro no raga no basta tempo dopo spacchettiamo troppo e che schifo di video punto e basta ma non è vero possiamo migliorare eh madonna quanto possiamo migliorare madonna che miglioro mi miglioro nita mi miglioro nita una cosa più finita mi donnerò pochissimo ora una ho zero precise gettoni raga che bello mi sento ricco va bene e che è manco bene e facciamo così ma mi sento Mario va bene raga allora facciamo così potrei anche mettere di nuovo potrei anche di shoppare entro stasera ma però dovete ma però anche io eh ragazzi si io sto proprio un'italianese correggiuto però allora facciamo così ragazzi abbasso un pochino 7 mi piace entro stasera shoppo una cassa enorme dai facciamo una cassa enorme perché sto shoppando troppo in questi giorni e poi e ci ho proprio questa cassa enorme però dovete arrivare il 7 mi piace entro stasera quindi per questo video è tutto vi ringrazio la visione ci vediamo al prossimo video ciao bello ragazzi